Io sono Miss Felicina. Dopo una caduta di Bonn, Ariana è andata in crisi. Non fa più niente, non patina. Non si è mai più alzata dal divano. Qual è il tuo metodo, mister? È farla alzare dal divano. Due la mantengono per le braccia e un altro che la sostiene da dietro, che è la famosissima tecnica di Enamacadateng. Secondo me, questo è un cialtrone. Scusi, 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 a me c'è di meglio se me lo portate a zeccoso, non mi piace sciacquare altri. Cioè, la città a zeccoso, ma addirittura un scoccio a tonno, mi pare una po' che esagerare. Stai sbagliando, oh frate! Secondo me, quando si è da soli, la felicità dura un attimo. Magari se è condivisa, durano pochissimi. Ma lei baciata? Sì, con la bocca, ma un gareccio.